E' un'iniziativa che nasce dal basso, 12 associazioni che da oltre 10 anni hanno focalizzato la propria attenzione sulle scale e focalizzando la propria attenzione sulle scale vuol dire averla focalizzata su tutta la città perché le scale a Napoli sono disseminate per tutta la città, quindi musica, convegni, visite guidate, passeggiate, trekking urbano per una Napoli diversa, con una prospettiva diversa, verso un turismo sostenibile, per una buona accoglienza dei turisti e una buona qualità della vita dei residenti. Il cosiddetto trekking urbano, la riscoperta della città verticale delle nostre scale bellissime, sarà sede di questo festival dall'8 dicembre, Festival delle scale con un calendario di eventi ricchissimi per far vivere queste scale, conoscere le nostre scale e proteggere le nostre scale. Far intravedere i più bei scorci della nostra città attraverso la pedonabilità, questa è una cosa molto importante perché riscoprire la mobilità sostenibile attraverso queste scale, riscoprire anche queste scale, la storia, la bellezza, la possibilità di mettere in comunicazione i due livelli della città, appunto città verticale, è anche questo un significato ancora più bello per la nostra iniziativa. È un modo, secondo me, originalissimo di entrare nell'anima di questa nostra città, cioè un punto di vista del tutto insolito, molto affascinante e ricco di emozioni. Quindi sono quelle esperienze del tutto particolari che, innanzitutto, i cittadini di Napoli devono provare e li invitiamo a partecipare numerosissimi. E poi perché in tutto questo c'è un forte e rilevante aspetto ambientale, cioè il muoversi, mettere in moto le energie del corpo e della mente attraverso la bellezza e quindi è un'altra cosa che posso dire che avviene raramente e in questa rarità c'è Napoli. Grazie a tutti.